Salve a tutti e benvenuti su SissiTube, struccatevi con me, oggi senza trucco, senza feltri, senza inganno, prendetevi una camomilla perché questo è un video per tutti ma forse interesserà di più alle signorine. Oggi sono qui per fare un super unboxing, sono troppo emozionata di questa collaborazione perché adoro, ora vi faccio vedere. Vi faccio dare una sbirciatina, queste cose meravigliose me le manda l'azienda Lumis, è una linea cosmetica a base di bava di lumaca. La bava di lumaca assicura risultati reali e rapidi perché è ricca di vitamine e di principi attivi. Soprattutto in giro si trovano tantissimi prodotti alla bava di lumaca ma non tutte le lumache producono la stessa bava quindi non tutte le creme a bava di lumaca sono buone come queste qui perché queste chiocciole crescono in un campo aperto in allevamento rigorosamente biologico e lontane dal centro abitato. Quindi questa bava è il top delle bave raga! La bava di lumaca ha veramente tantissime proprietà, qui ce ne sono elencate alcune, dice proprietà idratanti, nutritive, lenitive, rigeneranti, antirughe, antismagliature, toglie anche i segni delle cicatrici ed è adatta per tutti i tipi di pelle. Vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato. Allora, la prima cosa che vedo qui è una crema viso giorno e notte. Questa crema non contiene parabeni, glutine e allergeni, cosa molto importante per me perché io qualsiasi cosa metto dopo un po' mi fa allergia e quindi è ottima questa cosa. È fatto in questo modo, è il packaging molto minimal, mi piace molto, ed ha lo spruzzino. Vi faccio vedere anche la consistenza, è bianca e non vi preoccupate che pure se bava ha un ottimo profumo. E che bel profumo! Ed è super idratante. Questa qui va bene per il viso sia la mattina quando vi svegliate, dopo una bella lavata di faccia, sia la notte prima di andare a dormire. Un altro prodotto che vedo qui per il viso è questo siero. Dice concentrato alla bava di lumaca, rigenerante, nutritiva e anti-age. Questa qui però so che non solo va sul viso, ma va anche sulle smaiature. Aiuta a combattere la cellulite e le smaiature ed è ottima anche per togliere dei piccoli segnetti di cicatrice. Quindi potete usarla sul viso, ma anche sul corpo. Guardate com'è fatta. Ed è così, a contagocce. Ottima anche come crema prima del trucco. Anche questa, odore fenomenale. Adoro questo sieroviso, lo volevo da un sacco di tempo un sieroviso, non l'ho mai provato. Andando avanti troviamo la cosa che amo di più in questo momento, perché è un contorno occhi. Io ho gli occhi super secchi e ho sempre bisogno, soprattutto in inverno, di un ottimo contorno occhi e non vedo l'ora di provare questo. Poi su Instagram seguitemi, si si trattino basso tube. Proverò queste cose e nel corso del tempo vi farò sapere se mi sono trovata bene, se hanno funzionato su di me. Quindi seguitemi su Instagram per news, per sapere come andrà a finire la storia. Ma comunque questi prodotti ne ho sentito parlare benissimo da tutti. Questo qui è appunto un concentrato anti-age con bava di lumaca e acido ialuronico. Sappiamo bene cosa fa l'acido ialuronico. Ci aiuta a tirare su e a distendere il viso e gli occhi. Quindi fantastic. È fatto così, tipo termometro, ed ha qui una pallina rotante, fredda e gelata. Lo andiamo a passare così sotto all'occhio e praticamente risveglia lo sguardo e ci rinfresca. Così la mattina abbiamo subito un bello aspetto più riposato. E soprattutto mettetelo prima del trucco perché quando mettete il correttore sopra a un occhio secco, un contorno occhi secco, il trucco verrà malissimo. Quindi la parte più importante per un bel trucco è la cura della pelle. Poi ci sono due prodotti per capelli. Qui arriviamo al top perché io, vedete i miei capelli, non so se ve ne siete accorti, sono cambiati un pochettino. Dopo l'estate a me iniziano a cadere i capelli. Da dopo la sleeve si nota ancora di più perché qui a Napoli, non so se nel resto del mondo è così, si dice il periodo delle castagne. Nel periodo delle castagne cadono i capelli. Ragazzi, non ci potete fare niente. Dopo l'estate mi si sono seccati tantissimo. Adesso viene il periodo delle castagne dove cadono i capelli. Quindi i miei capelli sono praticamente una stoppettina. Qui sono caduti un pochettino, ma niente di esagerato. Sto bene ormai a livello di capelli da dopo la sleeve, ma ho proprio bisogno di uno shampoo e di una maschera che mi aiutano a togliere il crespo, che mi aiutano a rivitalizzare il capello. Perché veramente è proprio secco e super sottile. E infatti qui abbiamo un boccione infinito da 1000 ml di questo meraviglioso shampoo anti-crespo. Quindi casca a fagiolo per me, non vedo l'ora di usarlo e di farvi sapere. Shampoo anti-crespo, sempre alla bava di lumaca. Non contiene parabeni e profumazione ipoallergenica. Top! Guardate, poi è enorme e vi ricordo che i prezzi sono piccolini. Per la qualità di questi prodotti, davvero, i prezzi sono assolutamente super onesti. Ho fatto questa collaborazione proprio per la qualità del prodotto, perché ne ho sentito parlare bene da chiunque. E il prezzo e la qualità sono proprio in linea, la perfezione. Quindi fantastico, non vedo l'ora di usare questo shampoo. Bello odore, un bellissimo odore. Anche più bello di quello delle creme. Poi, come ultima cosa, e abbiamo finito. Maschera nutriente per tutti i tipi di capelli alla bava di lumaca, sempre senza parabeni. Ragazze, non vedo l'ora di provare questa maschera per capelli. Il mio capello grida, aiuto, aiuto, nutrimi. E con questa maschera alla bava di lumaca spero veramente di risolvere il mio problema. È fatta in questo modo. Ha una consistenza molto più soffice e sembra quasi una mousse, una panna montata. Quindi è un po' diversa dalle maschere per capelli che troviamo in giro. Almeno io non ne ho mai viste così. Ho sempre visto maschere molto più cremose, anche parecchio cremose e pesanti della consistenza. Questa invece sembra panna montata, è leggerissima, è schiumosina e veramente sono super curiosa di provarla. E ha un odore top anche questa, perché uno pensa alla bava di lumaca, no raga, profuma tutto, tutto bellissimo. Adoro. Ringrazio tantissimo Lumis per questa collaborazione. Vi ricordo che qui sotto ci sono tutti i link. Vi metto il link Instagram per poter seguire Lumis, vi metto il sito web per poter acquistare questi prodotti. E soprattutto grazie a me avete un codice sconto che è Sissi10. Da oggi per una settimana potrete usufruire di questo sconto del 10%. Quindi mi raccomando approfittatene. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se acquisterete qualcosa. E noi ci vediamo nel prossimo video che sarà sabato alle 14.30 e sarà un video della rubrica La vita secondo Sissi. Ciao!